Sospiri il problema del giorno, diciamo della settimana, è quello relativo alla questione Ryanair. Se ne parla tanto in queste ultime ore, tante questioni da risolvere. Voi avete chiesto un consiglio regionale straordinario per affrontare il problema. Ryanair ce l'ha con il governo Renzi, che gli ha aumentato le tasse aeroportuali. Ovviamente Comune e Regione non è che possono far finta che questo non sia il loro governo nazionale e che se Ryanair va via dall'aeroporto d'Abruzzo, chiuderà l'aeroporto d'Abruzzo, perché nessun vettore europeo riesce a garantire 250.000-300.000 passeggeri. Ora, io non comprendo perché questa regione trova i soldi per finanziare l'Abruzzo Engineering, 10 milioni di euro. Trova i soldi per garantire un ristoro di un ingiusto taglio alla sanità privata per 10 milioni di euro. Invece non si possono investire 5 milioni di euro, superando alcune impugnative della Commissione europea, per un'infrastruttura che crea una ricaduta di 250 milioni di euro, che causerà un problema lavorativo ad oltre 300-400 persone e che sarà una tomba per il turismo abruzzese. Ryanair deve rimanere all'aeroporto d'Abruzzo, altrimenti è meglio che D'Alfonso e Alessandrini se ne vadano da questa regione. Quale potrebbe essere la via d'uscita? Si intavola una trattativa che da qui agli 8 mesi, quando scadranno le linee già in prenotazione, non deve portare allo smantellamento della base Ryanair. Ovviamente Ryanair è qui come in tutta Europa perché c'è una contribuzione ai voli che mette a disposizione. Questo è possibile già fino a una cifra di 2 milioni e mezzo di euro per la comunità europea, c'è un delta di differenze e vanno trovate le soluzioni legittime affinché questo avvenga.